Non ce la faccio più, non ce la faccio più, uccidemi Sono passati solo 20 euro Sono passati, come fanno a essere passati solo Ma non so io ad esempio Quanto hai detto che l'hai pagato? 39 euro e 90 Forse sui... Che cosa? Sincronizzato Dicevamo 39 euro e 90 Ci vuoi mettere pure la sincronizzazione? Certo Voi dovete sapere, noi tutte le volte facciamo così per sincronizzare il gioco Tutte le volte misturo un timpano Comunque 39 euro e 90 Stavo dicendo, forse sui stand gaming lo trovate di meno Cliccate il link in basso se volete dare un'occhiata Però mi sono detto, perché non cambiare tipologia? Sempre questi giochi di sparamento Perché non giochiamo a My Little Pony? Se hai un'oretta ti spiego io perché non dovremmo giocare a Little Pony Però io, come vedete... Spiegamelo con tre parole Schifo al cazzo Allora, gioca, mini giochi E ce lo dice Minigiochi Impostazioni È un gioco 4 o più questo, quanti anni hai? 4 o più? È il voto Che facciamo? Gioca? Gioca Sposta questo mouse e mi sta... Eh, non sono esattamente un broni Sei un pony Però non mi dispiace... La Crystal Bright House È ciò che più rappresenta la magia e l'amicizia Ad è questo Che bello, senti... La sua luce illuminerà i cieli di Merta in velo La voce per dire ste bambinate, scusami Guarda come sono carini e coccolosi Sono sveglia... Sanni C'è qualcosa che non mi torna Che bello però La mia borsa Ma è solo molto espressivo La sua borsa guardando linguine Dove l'ho lasciata questa? Comunque mi piacciono le espressioni facciali Sono veramente belle Dai che costa 39 euro Voglio vedere quanto effettivamente ti vale C'è un lama È femmina? No Lama d'ho C'è un lama C'è un coniglio paffutello Guarda che bello quel coniglio paffutello È entrato in un... La mia tracolla L'ha presa quel coniglio Cominciamo a giocare subito con dei bei problemi all'orizzonte Oì, fido pu... Com'è furbo Forse posso usare la mia magia di terra su quella pianta C'è la magia di terra Con la mia magia di pony terrestre posso far crescere le piante e i fiori Premi questo pulsante per usarla Fai crescere il fiorellino Salda su di essi per raggiungere punti più alti Salda su di essi Con la mia magia di pony terrestre Ho capito Però quanto sei un pulsino Che bello Fino di... Vabbè però scusami eh La lasciata, la lasciata Ci penso io che ti faccio il pony di terra Recuperiamo la tracolla finalmente Così va molto meglio Ho gli abiti giusti e sono pronta a festeggiare Evviva La tracolla è l'abito, giustamente lei è nuda come mamma l'ha fatta ma ha una tracolla C'è quel fiore, quello è sospetto lì eh Sì, adesso ci saliamo Qua c'è un se... Aaaaaaah Insomma, guarda sto coniglio Mi ributtano Ti ha portato in un posto segreto Ti ha portato in un posto segreto Dove c'è... Mi sto uccidendo La mano Sembra che non ti piaccia No, in realtà pensavo molto peggio Ma ci giocherai molto... C'è un bar Che succede? E' bella la grafica, mi piace E' la miseria E' potentissima questa farfalla Shimmerwing, sei tu? Shimmerwing Wow, sei davvero forte per essere una farfalla L'ho detto anche io prima Segui la farfalla per trovare i prossimi passi Ah, è la guida Con penetrare dentro la porta, ma... Shimmerwing Ah, ma ti dovevo seguire Ma fammi prendere le cose, Shimmer Guardate come è impegnato Ma qua bisogna raccogliere tutte le stelle Chissà quali terribili atrocità ci potrebbero accadere Tornato a Shimmerwing Ha detto Dove è metto? L'ho vista Ma io ce l'ho da fare una cosa Eeeh Oh, ma io non voglio lasciare... Se volete tutto quanto il gameplay di Malitta e Pony Fatto da Sinar Ma buona puttana, ma è bellissimo Dobbiamo sbrigarci Mail time bait ci aspetta Eh, lei è bella però, eh Lo so Lei è bella, c'ha i capelli blu Però lei è nuda, non porta niente C'ha il bracciale al... Magia uniciclo Magia uniciclo? Cioè che nella vita c'è le mestruazioni una volta sola? Bastano un po' di glitter e un po' di pasta E tutto può essere uniciclato Un po' di glitter e un po' di pasta Nooo, perché serve qualcos'altro per costruire il ponte Eccolo Fatto Ora devo riportarli da Itzy Sai che per un attimo ho avuto paura di essermi bloccato sul gioco dei My Little Pony Perché questa cosa qua mi avrebbero memmato fino alla fine delle stelle Mi sono bloccato Devi chiedere una My Little Pony Grazie Sanni Hai salvato il ponte D'ora in poi Ogni volta che troverai dei tavoli come questi potrai uniciclarli Ma che cazzo significa? E' come puffoso Premi questo pulsante Sempre lo stesso Quando hai il tavolo per le creazioni per uniciclarli Un pulsante vuoi? Un pulsante C'hai le ali Non c'è le più Dovrai andare a cercare Itch È un po' che mi aspetta E lui è un tipo di pulsante È inutile scuotere l'albero se ci puoi saltare per prendere i frutti Alla madonna Eccoti Ti ho cercata ovunque Guarda lui come hai tente Eh lui Mancano ancora tre conigli ma non possono essere andati Io rifarei il gioco di Minipony ma tutto splatter Potresti andare a prenderli per me Tipo che salti sui fiori e poi atterri male e ti sloghi una caviglia e ti esce l'osso C'è un coniglio lì Devi raccogliere tre coniglieri Oh Ti ti butta? Non lo devi portare di là Ah eccolo là sopra Il grassissimo coniglio Però è molto bello ragazzi Cioè nel senso tutti questi task sono incredibilmente affascinanti Cazzo non so se valga 50 euro ma 39 39 Non so se valga 40 euro ma 39 e 99 Ottimo lavoro Sanni Sei davvero brava come pastore Te lo voglio a zappare? Lì dove non batti Eh ma qui nasce l'amore Chissà forse potresti diventare davvero un buon pastore di coniglietti Che ne dite ragazzi? Eh? Sì che ne dite ragazzi Che prego dammi qualcosa da fare che non sia coloratissimo e puccioso L'obiettivo è molto semplice Raduna i coniglietti all'interno della recensione I coniglietti? Lui comunque è copertissimo Lui è? Copertissimo Sei pronta a radunare qualche coniglietto? Sì sì c'è un antico Sei pronta? Certo La madonna ti puoi mettere a pressione È un elemento di disturbo Vabbè io muovi sfondo tutti Vi faccio Non ti puoi prendere tutti Ho fatto un lavoro Madonna Si sono buttati nel buco Oh e dai Sapevo che ti sarebbe piaciuto Però sei scarsa a radunare i coniglietti Ma guarda che non è facile perché tira Alla madonna Cioè un buco c'era Venite bambini No e quelli bianchi fanno un altro tipo di Bravo Troia sti buchi Vai vai prendi tutti i conigli che puoi Finito il tempo Gioco completato 552 Madonna ci sono bambini bravissimi Hai sbloccato Ichi Non ho fatto il massimo in un gioco dei mini pony ragazzino Niente male Davvero niente male Credo me l'avrebbe detto in ogni caso Lo finiamo tutto Benvenuti a Main Street Nel cuore di Mertime Bay ragazze Benvenuti a tutti i pony Vi va di vedere uno spettacolo favoloso No Ok Sì certo Allora non potete perdervi la Ruby Parei La Ruby Parei Comunque posso dire che è nauseante Il loro Il loro continuo entusiasmo per ogni cosa Allora lei Evviva Main Street è davvero carina Non trovi Ah evviva ha detto Devo imparare anche io a esordire con evviva Quando qualcuno mi interpella Scusate che ore sono Evviva Le due Le due Devi parlare con i fratelli e i coniglietti È la mafia di Mertime Bay Ma è lunghi ma come parlano come Squabbit in realtà Non credo che mi lasceranno passare Squabbit non ve lo potete ricordare Se ve lo ricordate metteteci un commento Ce lo ricordiamo Lui è Thunder Lui è quello tosto Soffre di meteorismo Risposta sbagliata Tu sei sanni Star Scout giusto? Star Scout Gesù Cristo Devi iniziare immediatamente il tuo addestramento Ma so volare a malapena Beh È proprio questo il punto no? Perché sembrano che siano tutti Fair Thunder Sì c'è un'attenzione sessuale perenne Ma il Little Point è l'attenzione sessuale Cioè veramente ragazzi Sei pronta per mettere alla prova le tue capacità? Sei pronta per mettere alla prova le tue capacità? D'accordo C'è un divano di là Allora Lei raccoglie ferri di cavallo Perché non vede l'ora di essere ferrata Ferrarla nel volo? No ferrata in generale Cioè è un gioco di ruolo che fanno i cavalli come Thunder Ferrano le femmine Bravo Ben fatto cadetta starsca Ma se l'ho saltato Ci sai fare Te la sei guadagnata Cosa? Una buttarella L'acronimo di Winx significa il fantastico istituto di skywalking antigravitazionale Figo vero? Anche ONU vuol dire Wonderful Institute Gravitational Qualcosa No è triste No Che cazzo succede? Qualcuno ha un problema vero Fermi Il mio bellissimo cartellone è stato distrutto C'è un vandalo Qualcuno deve aver pur visto qualcosa Devo chiedere a tutti i pony dell'azienda No Lo chiederò in giro Ma no Devi parlare con tutti adesso Chiunque sia stato ha il pelo viola Ah Da cosa l'ha dedotta questa? Non lo so Segui la farfalla Sprut Eccola È andata questa Il sabotatore ha una lunga criniera blu Lunga criniera blu Pelo viola E che è multicolor Il sospetto è un unicorno Beh pensavo fosse qualcosa No è fatto Devo andare a parlare con Sprut C'è un problema tutto Un ottimo lavoro di investigazione Qual era quella con il mio lavoro? Un unicorno dal pelo viola E una lunga criniera blu Criniera blu Credo sia chiaro chi è il colpevole Sunny No Izzy non farebbe mai una cosa simile No Izzy Parlerò io con lei Chi cazzo è Izzy? No è quella di prima Ma eccola là scrova C'è il pelo blu Pelo lungo Qualcuno ha rovinato il cartellone di Ruby Oh no È ter... Non è lei Non è lei Potremmo uniciclarlo Sì Questo dimostrerà che non sei stata tu Uniciclarlo che significa? Non l'ho capito Riciclarlo forse Unic... Ah Dov'è la farfalla? Siamo bloccati È successo Ah che è questo? Questo Oh ciao La farfalla una volta che serve? Dai Cosa vorresti in cambio della vernice? Eh Curo Dylan La guardia Pegaso Vorrei tanto provare uno di quei bellissimi elmi delle guardie Stai accusando? Madonna 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 mia Mamma mia Mamma mia Dai però dobbiamo trovare l'elmo della guardia Pegaso Madonna Madonna E sta qui La fabbrica è chiusa Non è no Segui la farfalla Caravan Caravan Eh Devi farla tu capito? Che tipo di costume favoloso stai cercando? Cerco un elmo delle guardie Un elmo delle guardie? Davvero un'ottima scelta Ottima scelta Un'ottima scelta Ne ho uno ma Ma ti serve qualcosa con cui scambiarlo? Dove te Ti serve un fiore rosso? Non mi piace questo scambio di roba Scambierei uno? Vorrei poterti aiutare ma ho già scambiato il mio ultimo fiore rosso Però ho piantato dei semi di fiore rosso in questi vasi Beh Potrei usare la magia per farli crescere Se tu sei d'accordo Cioè una fioraia non lo fa? No perché lei ha i poteri da te Vai vai portali così c'è dall'elmo e abbiamo finito sotto tedio È un fiore bellissimo Ecco a te un elmo nuovissimo tesoro Ma ha detto che non ce l'aveva No ha detto che ce l'aveva l'ultimo Questa cosa dello scambio comincia a piacermi? A me no Ti sta bene? Vero? Per Equestria Sì Per Equestria Cringio pure per lei Mamma mia Ecco la tua vernice rosa Grazie Ma quindi il colpevo è? Ah eh mo lo scopriremo Però non è trinzila Io non so che cosa ci sia Stiamo rischiando di fare il primo gameplay dormendo Io non so che cosa ci sia di così soporifero Ma mi sto veramente Comunque sia un completista se posso Ma credo che le stelle servano a acquistare cose Ma magari i superpoteri, i nuovi attacchi, le combo non possiamo comprare Il pubblico è qui ma manca una cosa I soldi Primrose La mia seconda ballerina È stata lei a manomettere la cosa Perché lei in realtà non vuole fare la seconda ballerina Vuole fare la prima ballerina Destra devi salire sull'imbarcatura Imbarcatura Mochi eh Sei tu Primrose Sì sono io Ma non posso andare Però non hai il pelo blu Cioè non hai i capelli blu Non ho niente di carino da mettere Tutto qui Troverò dei vestiti per te Ma una raga mi sta prosciugando la Tutta l'energia che avevo Pure i bambini non avevano capito che si sarebbero rotti i coglioni Quindi Riceverai tantissimi complimenti Nooo Dammi un'altra Dai a sinistra La a destra Uno di questi Vestiti per la passerella In arrivo L'ultimo è quello che hai visto là della Sony Parabella Per lo spettacolo di Ruby È un abito da Ho trovato tutto Madonna ragazzi Non è normale Mo mo Vediamo quanto è bella quando si cambia Sì Parrucca blu E se a lui non dovessero piacergli Piacere Chi sarebbe lui? E chi altro? È così gentile con tutti i poni Lo vogliono tutti quanti Ma c'è una tensione sessuale perenne veramente Ma sono troppo timida Perché non dovresti Dio E non ce ne faccio più Non ce ne faccio più Uccidemi Sono passati sono 20 minuti Sono passati come fanno Ma non sei io, ad esempio Dio Oddio, abbiamo trovato No, basta, basta Noi ci vediamo al prossimo Aspetta, no, no Porta tutta la serie, si nerva mentre dorme sul relax No, il freno di te Noi ci vediamo, mi raccomando Aspetta, finalmente il frigorifero del chiosco dei frullati si è rotto Come faremo? Ci vediamo alla prossima Ciao a tutti, poni My little proni Lo giochi tu No, no, mai nella vita